perché le ruote devono perché sei in quarta sono una figata con quel montone si mette la seconda vuol dire che è diventato su di là in seconda e fai quarta andiamo a prendere la mano no non ce ne sono più c'è i ventilati che i ventilati lo trovate alle ottero già là vedi che le avevo messe dentro nel buchetto giusto le ha portate a casa perché dal Sergio non ce n'è più non ce n'è più sul set ha detto se ne metto giù queste qua in due o tre blocchi mi razzano di nuovo un'altra volta no no ma va che le mangia il Sergio quante quante spampi ne ho nascoste di là dalla rete ne avrò buttate dentro almeno 30 almeno 30 almeno 30 via ma si è ricavata bene bravo bravo hai solo toccato il sassetto a metà che te l'ha spostato però hai fatto bene stai sopra quel sassetto lì mi piace con la ritmo mi piace mi piace qui mi piace prendi bene la misura la misura